Dottor Spadoni, lei che è considerato un po' il guru dell'alimentazione, a cominciare dai grani, dalle farine, dai ristoranti, ma perché l'ha fatto? Perché ha assunto questo mestiere? Non mi dica perché è un fatto genealogico, perché talis, filius talis, qualis pater? Questo senz'altro, perché la genetica conta in poi tutto quell'argomento di cui oggi si parla e quindi naturalmente la genetica per me significava lavorare su quello che erano le radici mie, quindi le radici di un mondo che ha immediato ridosso dell'agricoltura e che lavora i prodotti dell'agricoltura e quindi mi sono sempre appassionato di questo. Poi io sono un, ahimè, grande appassionato di cucina, quindi mi piace mangiare, mi piace bere, mi piace apprezzare il vino, mi piace apprezzare tutto quello che c'è di buono e quindi anche questo ritengo che faccia parte di questo collegamento. Da questa situazione basica tutto quello che ho fatto era cercare di allargare un po' l'orizzonte, nel senso di andare anche verso quelle cose che non erano immediatamente vicine alla farina, al pane, a queste cose qui, ma che ci giravano attorno, quindi perché essendo romagnolo, essendo quindi collegato, abituato a vedere i prodotti nostri, nostri, ho sempre pensato che mi avrebbe fatto molto piacere dire la mia anche su queste cose, da qui poi è partita un po' una serie di cose che non hanno ancora finito di fermarsi. Di fermarsi e quindi con i prossimi obiettivi, ne parleremo subito dopo, ma lei sa, la prima volta che io l'ho conosciuta, lei mi parlò e mi fece vedere qualcosa come, non vorrei sbagliare, qualcosa come circa 250-300 prodotti suoi che venivano dai mulini, dalla sua produzione. Forse si è sviluppato qualcosa e mi sono permesso da loro in poi, nel mio ambiente, ma anche in più in generale, diciamo, ma noi in Romagna abbiamo il nostro farinetti, l'Italia. Beh, adesso non so, adesso far paragoni è difficile e non voglio farli. Diciamo che indubbiamente da quella volta famosa che diceva lei, dove ci siamo conosciuti, sono passata tanta acqua sotto i ponti, si è ritornati con una sensibilità sempre maggiore verso i prodotti nazionali, c'è sicuramente una forte attenzione a tutto quello che è il contenuto di fibre, quindi accanto a farine che, voglio dire, sono la cosa più naturale che c'è oggi al mondo, perché, diciamo, la farina, il grano è, il grano tenero, il grano anche duro, ma soprattutto il grano tenero è per definizione un prodotto che non è stato toccato dalla genetica, quindi non ci sono prodotti geneticamente modificati, quindi è quello che era. Dal punto di vista dei trattamenti direi ci sono fatti passi avanti enormi. Consideriamo che noi, ad esempio, il grano lo conserviamo dentro dei silo bag, quindi in assoluta assenza di ogni tipo di trattamento, sia chimico ma anche fisico, quindi senza anidride carbonica o niente. Quindi praticamente è un prodotto che così come viene dai campi, viene ampiamente e poi direi che ogni anno giustamente con l'intervento del mondo della sanità si sono sempre più alleggeriti i principi chimici alla base, quindi direi che è il prodotto più sano forse in assoluto, molto controllato ovviamente, ma già sano di suo. Quindi non è che la farina raffinata e tutta questa serie di infinite balle. Certamente una farina raffinata ha solo una caratteristica che essendo stata setacciata, perché per raffinata si intende solo quello, setacciare per togliere la parte cruscale si toglie una parte di fibra e noi abbiamo messo a punto, assieme, noi abbiamo un mulino convenzionale, cioè dove si lavora il prodotto non biologico e siamo i primi a aver fatto un mulino biologico staccato per conto suo per evitare contaminazioni. Accanto a questo abbiamo attrezzato tutti e due i mulini, che sono uno a Coccolì e l'altro a Savio, con dei sistemi di macinazione anche a pietra. Quindi siamo ritornati all'origine perché c'è una richiesta di questo tipo di cose che io volentieri, al di là delle mode, ho trovato giusto perché cambia un po' il gusto. Ecco, questa è la parte anche interessante delle macinazioni a pietra. Però ovviamente macinare a pietra è un gran bel discorso, ma a monte di questo ci deve essere il massimo della tecnologia per la pulizia, perché il grano naturalmente viene raccolto in un campo, quindi ci può essere un po' di tutto. Quindi l'eliminazione dei prodotti, delle sostanze non necessariamente… Insomma, dovete separare il grano dall'olio, come si diceva nel vecchio testamento. Un po' di più, perché dobbiamo ricorrere a non solo delle semplici setacciature, aspirazioni o cose del genere, ma anche all'aiuto dell'elettronica per intercettare anche il chico che sia stato attaccato. Quindi voi usate l'elettronica per separare? Per separare e quindi per scartare. Bisogna avere un grande coraggio perché bisogna scartare molto. Ecco, è per arrivare al prodotto vero, buono, perché macinare anche la terra, la macinare, non so, la piuma dell'uccelletto che passava sopra, non è cosa giusta. Non va bene, non è cosa giusta. Ma da questo al passaggio, il passaggio importante che lei ha compiuto, perché poi lei ha detto poco fa, amante della buona cucina, del buon vivere, del buon cibo, del buon vino, però lei l'ha applicato perché ha aperto una serie di ristoranti che sono in questa logica. Sì, in effetti diciamo che dopo aver fatto un percorso di valorizzazione di quello che è i formaggi più tipici nostri, e lì non abbiamo ancora finito perché c'è veramente il mondo da fare con formaggi a latte crudo, c'è veramente di che divertirsi. Poi a parte questa sezione, avevamo fatto anche prima un allevamento con un caro amico che adesso è venuto a mancare, che era lui sì il guru dell'alimentazione. Emilio Antonellini è stato per me non solo un amico, ma veramente una guida da questo punto di vista, e lui aveva messo a punto un gruppo di more romagnole vere. Cioè era riuscito finalmente con un lavoro di 30 anni di selezionare per via naturale questi animali che avessero ancora le caratteristiche che avevano all'origine. Il suino, la morra romagnola. Dal di lì è partito poi l'avventura anche del salunificio e dal di lì sta partendo e partirà anche un discorso di piatti, di piatti pronti, di cose del genere. E qui volevo arrivare, dottor Spadoni, perché in questo contesto noi dobbiamo collocare quando noi fra poco presenteremo i nostri ospiti su questa puntata, mi metto a dieta, ma di fronte a questo ben di Dio, com'è possibile mettersi a dieta? Beh, diciamo la difficoltà ovviamente c'è perché il piacere della tavola è connaturato alla persona. Io credo che il mondo stia comunque, direi, trovando una sua, come dire, specificità proprio perché sono venute oggi, anche grazie, soprattutto grazie alle ricerche scientifiche, sono venute alla luce tutta una serie di cose che prima erano ignote. Ad esempio, tutto il mondo, io che so che vengo dal mondo del glutine, ho capito molto tempo fa che il glutine poteva essere anche dannoso per qualcuno. E quindi abbiamo fatto tutta una serie, tre stabilimenti per prodotti gluten free, dove anche lì però io non ritengo che l'intelligenza e la giustizia del passo è quella soltanto della miscela tra prodotti che hanno sì queste caratteristiche scientifiche. E noi ci appoggiamo passo a passo all'università, noi ogni anno facciamo convegni, oltre che avere come consulenti, facciamo dei convegni cui interviene il GOTTA della medicina nazionale ed estera, proprio per avere gli aggiornamenti su quello che sta succedendo e che il mondo della medicina consiglia che venga fatto. Però non si possono fare dei cibi di cartone, cioè devi comunque riuscire a dare dei prodotti che siano di alta qualità, allora il mix fra le due cose diventa gradevole. E da allora noi, anzi, stiamo per far uscire, partire, paste, perché noi abbiamo anche un pastificio esclusivamente senza glutine, dove la mia idea era quella di fare prodotti senza glutine che avessero come minimo le caratteristiche di quelle col glutine, ma che avessero in più anche tutta una serie di declinazioni che vadano incontro alle varie esigenze fisiche per le malattie principali, o meglio, per evitare le malattie principali. Che vedremo con i nostri ospiti? Posso allora concludere dicendo che lei sta tentando? Gli antichi dicevano che in medio sta virtus, un latino un po' maccheronico, nel mezzo sta la verità, quindi va bene il gluten free, però accompagniamolo lì con il buon gusto, con produzioni d'alto livello molto vicine, insomma, fossilizzarsi e dire, come diremo dopo, solo vegano, solo vegetariano, solo gluten free, solo macrobiotico, sarebbe sbagliato. Sì, diciamo che ci deve essere da parte dell'industria, da parte della ristorazione, da parte un po' di tutto il mondo che si occupa di cibo, anche la sensibilità di riuscire a fare delle cose eccellenti seguendo queste sensibilità. Io non sono un vegano, ma quando penso che Paul McCartney è vegano e vegetariano, dico probabilmente qualche ragione c'è, quindi bisogna essere assolutamente coerenti con un mondo che ha esigenze fisiche, quindi medico-salutistiche, ma purché vere, ecco, perché si sentono troppe… Purché vere, lo riprenderemo in questo concetto, purché vere, da sottolineare, dottor Spadoni. Ecco, quindi ripeto, è anche un fatto di, come dire, dare a ciascuno dei prodotti adatti alla sensibilità, alle caratteristiche fisiche, a tutto quello che uno vuole, ma sempre in un concetto, per quello che è possibile, di altissima qualità gastronomica. Grazie, adesso parte la sigla e con i nostri ospiti andremo a scoprire cosa voglia dire il mio metodieta. Grazie a tutti. Dottor Dario Bettini, lei è chirurgo bariatrico, non so se ha sicuramente seguito da vicino ciò che ci ha detto con questa lezione il guru dottor Spadoni, però lei condivide, occorre sempre, come mi sono permesso di dire, che nel mezzo si trova sempre il modo di far convivere le varie realtà e quindi anche nella dieta? Allora, io faccio il chirurgo dell'obesità, allora qua fra gli ospiti ci sono nutrizionisti, dietisti, eccetera. Io me la potrei anche cavare molto facilmente dicendo che io arrivo probabilmente quando le dietano fallito, ha capito? per avvicinarmi al suo concetto le potrei dire questa cosa, probabilmente esiste una dieta ideale, quindi si potrebbe scrivere su un foglio una dieta considerando le caratteristiche della persona e cercando diciamo quello che è il meglio, poi dopo questo foglio si deve calare nella vita di un individuo, ha capito? Quindi forse il suo concetto dello stare in mezzo significa che noi forse quando affrontiamo il problema alimentazione semplicemente con un foglio facciamo sì che il paziente magari per un certo periodo effettivamente riesca ad aderire a quel programma in maniera faticosa ma sempre nella testa al momento in cui ne uscirà, ok? Allora per esempio io non porto immediatamente in sala operatoria un malato che mi si presenta, fa un percorso nutrizionale, diciamo che l'atteggiamento almeno quello del nostro gruppo è quello di portare gradualmente il paziente a questo ideale. Allora subito perché vorrei conoscere i fronti ai telespectatori, ha detto il nostro gruppo, il mio staff che parte qui presente. Allora la chirurgia bariatrica non la fa il chirurgo da solo, ha bisogno di un nutrizionista, una dietista, uno psichiatra e uno psicologo, questo è proprio il requisito minimo di base, poi ci sono altri requisiti, secondo me la chirurgia andrebbe fatta in strutture che hanno tutto, anestesia, rianimazione, pronto soccorso, cioè secondo me la gestione di questi pazienti deve essere fatta a 360 gradi, quindi? Quindi faccio un passaggio successivo, importante rispetto, e mi rivolgo alla dietista, perché il passaggio è anche breve, importante, la dottoressa Venerarita Pullara, il primo passaggio partendo da ciò che ci ha detto il dottor Spadoni e il dottor Bettini, dietista, il ruolo del dietista. Allora il dietista possiamo dire che è proprio una figura centrale che accompagna sempre il paziente in tutto il suo percorso riabilitativo, il suo compito infatti non è solo quello di prescrivere una dieta, quindi imporre… Lei ha usato il termine riabilitativo, cosa ovvia, però lo diciamo i telespettatori, siamo in presenza quindi di una dipendenza di una malattia. Riabilitativo nel senso di aiutare la persona comunque a modificare dei cambiamenti, ecco sotto questo aspetto, perché perder peso può risultare un qualcosa di semplice, però come diceva il dottore rischia comunque di essere transitorio, perdo peso per un mese, mi metto a dieta ma poi non riesco a sostenere comunque un'alimentazione eccessivamente magari rigida, monotona e di conseguenza riprendo a rialimentarmi. Quindi un po' il compito del dietista è aiutare la persona ad acquisire nuove abitudini, abitudini quindi più sane, abitudini più corrette, che siano proprio compatibili con le esigenze della persona, che siano proprio inserite nel proprio contesto familiare, nella propria attività lavorativa e in tutte anche quelle esigenze cliniche di cui, che sono necessarie. Io, noi nel pensare, anche con il dottor Bettini, nel pensare allo svolgimento di questa puntata che non sarà facile, però tenteremo di dare il quadro, poi per poter approfondire successivamente i temi che emergono da questa puntata. Io pensavo all'inizio, ma senza entrare nel merito, mi ne guardi bene Dio, non è nel mio compito, non è nel nostro compito perché ne parlerà la giustizia, perché sono altri temi. Mi sono avvicinato a questo tema quando ho sentito parlare di questo caso strano scoppiato in parte in Romani, in parte nelle Marche, scoperta psicosetta, questi sono i titoli dei giornali, io non dico niente di autonomo, è qui scoperta psicosetta macrobiotica, diete ferri, addetti ridotti in ischiavitù, allora mi rivolgo alla dottoressa Elide Giordani, che come poco fa dicevo, giornalista, ma appartiene nel Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, quindi anche autorizzata ad andare un po' più avanti del nostro studio. Lei ha intervistato in quel momento alcune persone, come esattamente sono andate le cose secondo lei? Il caso della macrobiotica? Allora, io credo che sia un caso abbastanza emblematico di personalità che avevano difficoltà legate al proprio aspetto, perché poi la dieta, il condizionamento del cibo direi che passa soprattutto attraverso l'accettazione del proprio aspetto fisico, un elemento che è fondamentale nelle nostre relazioni, quindi che si trova in sovrappeso, che si trova in un'eccessiva magrezza, ma di solito non è quello il caso, perché la magrezza chissà perché viene sempre molto più apprezzata del fatto di avere un po' di chili di troppo, finisce per essere psicologicamente in difficoltà qualche volta, perché la mancata accettazione di sé, la mancata accettazione sociale mette una persona psicologicamente in difficoltà. Allora, perché in effetti poi le persone un po' grassotte, che qualche volta non è neanche una cosa disdicevole insomma, vogliono appartenere a un certo modello e quindi finiscono per abbracciare tante diete? Il dietologo è un guru nel vero senso della parola qualche volta, allora Leonardo Spadoni in realtà ci offre la meraviglia di una cucina stupenda, il vero guru invece è quello che magari attraverso una certa organizzazione è capace di manipolare la psicologia di un personaggio. E al macrobiotico dove c'è una dieta molto rigida che esclude alcuni alimenti, io personalmente sono stata al macrobiotico e a parte considerare un sapore non sempre gradevole, devo dire che non ho notato niente di strano, nulla che potesse far pensare a una setta, però io non sono nella condizione di dover subire un condizionamento, mentre invece ci sono persone che poi si affidano, si sono affidate perché appunto quando sono in difficoltà cercano qualcuno a cui appoggiarsi e evidentemente qualche interesse economico deve aver condizionato questo approccio alla cucina sana, alla cucina che fa dimagrire eccetera, perché poi le persone che abbracciano una dieta spesso finiscono per dover acquistare certi prodotti, non affidarsi più alla cucina, al gusto, alla voglia di mangiare e lì è successo evidentemente qualcosa che ora è di competenza della magistratura. Quindi lei suggerisce a tutti noi, io uso spesso questi riferimenti in latino, cum gramo salis, è proprio il caso senza sale magari, non col sale, ma andarci con attenzione, sotto una guida, perché altrimenti caro dottor Spadoni andiamo di là, ci facciamo prendere un bicchiere in più, mangiare in più e nemmeno poter dire, mi rivolgo però a questo punto per avere il quadro alla dottoressa Zaccheroni, a Valeria Zaccheroni endocrinologo e poi agli psicologi e psicoterapeuti, per vedere un po' come dobbiamo comportarci. Allora, come diceva lei prima, l'obesità è una malattia, è una malattia cronica e quindi nasce da una genesi multifattoriale e uno di questi fattori è sicuramente il nostro comportamento. La frase che più volte è ricorsa questa sera, mi metto a dieta, in realtà vuole sottolineare il significato profondo, etimologico della parola dieta. Dieta in sé per sé non rappresenta una restrizione, ma rappresenta un comportamento, quindi un cambiamento in quello che può essere il nostro stile di vita. Nel momento in cui la persona decide di mettersi a dieta, spesso vorrebbe già aver raggiunto il risultato il giorno prima, quindi le aspettative sono ampie e spesso sono troppo veloci e non realistiche. Per cui il rischio può essere quello poi di cadere in percorsi non perfettamente adatti a quelle che sono le sue caratteristiche. Perfetto, poi ci sono gli aspetti culturali, gli aspetti ambientali. Adesso affronteremo gli aspetti psicologici, la psiche, come reagisce? Maria Grazia La Pietra e poi a Simonetta Giunchi. Sì, noi come equip dell'ospedale Pierantoni di Forlì trattiamo il tema dell'obesità, che appunto è una patologia, in un'ottica multidisciplinare, quindi dietista, chirurgo, psicologi e psichiatri, proprio perché si ritiene che il paziente abbia bisogno di essere conosciuto e seguito nella sua interezza. Di conseguenza sappiamo che è importante prima di tutto inquadrare, capire per esempio che significato ha il cibo per lui, che significato ha avuto fino a quel momento nella sua storia, a partire dall'infanzia, se il suo mangiare ha una funzione consolatoria, compensatoria, che tipo di importanza ha rivestito fino a quel momento e quindi capire come aiutarlo nella gestione, nella nuova gestione, perché appunto come hanno già detto si tratta di modificare un po' uno stile di vita, non si devono dare regole restrittive che poi non potranno essere seguite e abbiamo visto come è importante, oltre che l'approccio multidisciplinare, per esempio anche l'approccio del gruppo, quindi abbiamo un importante percorso di gruppo di autoaiuto, di pazienti, sia che si devono ancora avvicinare all'intervento, sia che l'hanno già fatto, che proprio attraverso la condivisione delle esperienze e dei loro vissuti, hanno trovato grande forza per superare questa che la maggior parte di loro definiscono una dipendenza. Dottoressa Giunchi. Sì, come dice la collega, il rapporto col cibo è fondamentale, dobbiamo capire che cosa, qual è il significato simbolico che il cibo ha per questi pazienti, perché il cibo è la prima fonte di nutrimento per ogni neonato e sancisce il rapporto con la madre. Nel momento in cui su chi è la mammella materna si produce ossitocina e questa genera, produce latte, il bimbo si accorge che questo gesto di attaccamento al seno non solo lo riempie fisicamente, producendo di piacere, ma gli permette di ottenere anche uno scambio affettivo e piacevole nei confronti della madre. Da qui chiaramente emerge quello che è l'importanza del cibo per una persona e quanto può essere utilizzato, anche per compensare, riempire dei vuoti che possono, o difficoltà di gestire le proprie ansie, le proprie angosce e di autoregolarsi utilizzando il proprio corpo. Il corpo diventa la sede, può diventare la sede, come dire, attraverso cui controllare proprio per i conflitti interni. Bene, è molto interessante questo riferimento, dottor Fabrizio Borghetti, Eat Coach. È molto interessante questo aspetto del riferimento, il cibo come riferimento anche affettivo. È assolutamente un riferimento affettivo, come dice la dottoressa, il bimbo è la prima esperienza che ha, appena nato in sala parto, poco dopo, è l'assunzione del colostro, quindi un contatto con la madre. Da quel momento in avanti si crea un imprinting, un'impronta e tutta la vita della persona sarà gestita cercando comunque un riferimento orale per sedare delle pulsioni. Il bambino paradossalmente nei momenti in cui ha paura di qualcosa, mette il succio in bocca, mette il dito in bocca. In realtà se ci fosse un intruso in casa non è che l'intruso diceva, vabbè, hai il dito in bocca, allora vado via. E quindi il bambino è in grado comunque, crescendo, di mantenere degli schemi. Per cui durante il corso della vita è facilissimo vedere persone che, parliamoci chiaro, credo che nessuno di noi qui abbia mai mangiato con l'intento di ingrassare. Quindi nessuno di noi si nutre dicendo, vabbè, sono 68 kg, voglio arrivare a 70, mi faccio due pizze. E' importante come si sa la dottoressa capire qual è il motivo che porta la persona a mangiare o a iperalimentarsi, pur essendo perfettamente consapevole del fatto che non si sta facendo del bene, insomma. L'errore più grande, secondo me, che viene commesso nell'ambito nutrizionale è di non tener conto del fatto che nessuno ha mangiato per ingrassare, ma lo si vuole portare a mangiare per dimagrire. Questo è interessante, infatti io non me lo pongo il problema di dove ingrassare di due chili, che ormai il problema è qualche mezzo chili in meno, per fare delle gran fatiche, il rapporto in chilocalorie dopo la dobbiamo misurare. Sapete cosa facciamo adesso? Perché dobbiamo abituarci tutti insieme, perché stiamo facendo in diretta queste trasmissioni, ciascuno di noi è un attore di questo studio, anche coloro che presenteremo dopo in tribuna, dobbiamo adesso raffreddarci un momentino, anche se qui è caldo, quindi mandiamo un po' di pubblicità, riprendiamo anche con gli altri attori per dare un quadro completo e poi arrivare ad esaminare che cosa fare per stare almeno un po', diciamo, tra virgolette, in regola, dottor Bettini, pubblicità. Io debbo ringraziare, non l'ho fatto all'inizio, anche i nostri ospiti che adesso vi presenteremo in tribuna, a cominciare da questi meravigliosi ragazzi, sono dell'istituto alberghiero Artusi, Artusi vi dice già qualcosa, perché Artusi è, caro dottor Spadoni, lei quante volte l'avrà evocato, dica la verità, c'è la fotografia, la mette sopra, c'è avrà quella del Presidente della Repubblica, il Papa e Artusi, tutte e tre. Sì, forse nell'ordine è un po' diverso, però Artusi è un guru anche lui, una personalità. Beh, indiscutibilmente, poi è un romagnolo, è uno che ha fatto veramente tanto per l'unità d'Italia, come diceva Montanari o come dicevano altri più bravi di me, quindi è indiscutibilmente uno che ha fatto quasi come Cavour per creare una comunità di persone che in un paese come il nostro, dove ogni 20 chilometri, ma neanche, forse anche meno, cambiano le abitudini, cambiano le regole per fare piatti tutti diversi. Io ho una scena, una scena che ogni tanto recupero e dico di questa scena, quando Artusi si trova a Bologna in un'osteria, sta mangiando in un'osteria, Artusi, voi artusiani sappiate che questo è successo davvero e al tavolo vicino c'era un tal Felice Orsini, mi disse qualcosa, che era di Meldola, che fece un attentato, allora, ed era uno sbruffone, racconta Artusi, dice ma chi è quel così sbruffone che era poi Orsini, Artusi, oppure l'altra scena, voi sapete che il Passatore, come sapete la storia del Passatore, quando si recò nel teatro Verdi di Forlimpopoli, quindi sono in casa vostra, si recò e rapinò allora alle donne monili e oro, eccetera, poi si recò a casa di Artusi dove c'era la sorella, che dicono le croniche venisse violentata, dopodiché divenne pazza e un problema molto grosso anche per Artusi. E quindi ne approfittiamo per toccare un momentino anche l'Artusi. Professore Cagnacini, Artusi, lei avoca anche questo? Lei che è docente all'Artusi. Artusi sicuramente è stato per noi un riferimento importante perché la cucina l'ha affrontata a 360 gradi, anche noi come istituto miriamo non tanto a un tipo di cucina, preferiamo un tipo di cucina, ma cerchiamo di aprirsi a quelle che sono un po' tutte le varie conoscenze ed esperienze. Anche i nostri ragazzi cerchiamo proprio di coinvolgerli anche in tante iniziative che riguardano non solo la dieta mediterranea, ma anche la dieta vegana, la macrobiotica. Cioè anche noi curiamo tanti aspetti e introduciamo nell'alimentazione tutti i vari tipi di prodotti. Cerchiamo così di educare i nostri ragazzi, i futuri chef, ad affrontare anche il mondo e il futuro, come Fezzi Artusi che andò in giro per reperire tante ricette. Lei ha editato questo libricino molto interessante, una ricetta per il cuore, con l'associazione Cagnacini per la lotta contro le malattie del cuore, quindi ci sono le interferenze anche con le malattie, quindi le cardiopatie, no? Sì, un progetto che è nato l'anno scorso grazie anche dal suo cuore, che ringraziamo che ha... Dal mio cuore, no, dal suo cuore, dal cuore di ciascuno. Dal cuore di ciascuno. No, nel senso che ho partito con questo progetto proprio per prevenire le malattie cardiovascolari e anche qui si tratta di una dieta, scegliendo degli alimenti che, diciamo, aiutano nella prevenzione delle malattie. E però lo chef mi deve aiutare, sempre dell'istruttore, è Walter Convertito, dopo ci sono i ragazzi che per ragioni di visibilità, perché lo studio è grande, però non contiene tutti come vorremmo, ci sono i ragazzi che dopo ci produrranno qualche ricetta. A lei. Sì, in pratica loro sono i miei alunni. Avvicini un po' di più il microfono. Va bene, sono i miei alunni, sono alunni sia del diurno che del serale, perché lì alla scuola alberghiera di Forlimpopoli abbiamo anche un corso serale. Praticamente abbiamo preparato alcuni piatti, cucina mediterranea, c'è un'insalatina dove abbiamo utilizzato invece della classica insalata delle erbe spontanee, giusto per stimolare anche un pochettino l'appetito. E poi dopo abbiamo messo insieme alcuni altri ingredienti, come la stracciatella, una alice marinata, poi dopo c'è una frisella croccante e un po' di cipolla caramellata. Il tutto insieme proprio per stimolare. Dopo lo faremo vedere da vicino, questi piatti, per mostrarli con la maestria sua e dei suoi ragazzi. Dei ragazzi, soprattutto. Ma torno sempre, perché noi dobbiamo percorrere quella strada, quella linea, quella che è mi metto a dieta, ma lei è il filo conduttore, il dottor Vettini. Ma allora, il discorso del mettersi a dieta, come diceva anche Valeria Zaccheroni, bisognerebbe uscire da questo concetto che deve essere un momento nell'anno, caso strano, prima dell'estate se ne parla sempre diffusamente. Questo capisco che è difficile da fare, però insomma ci sono una serie di comportamenti che dovrebbero entrare a far parte della nostra quotidianità, così come a maggio, in attesa della prova costume, così anche a ottobre, quando ormai l'abbiamo fallita quella prova costume, non so come dire, adesso sto in una battuta. Certo. Quindi insomma, in realtà io non sono tanto favorevole, perché ogni anno è un po' come ci sorprendiamo, no, l'epidemia di influenza, cioè adesso c'è l'epidemia di diete, qua ogni stagione ha il suo hot topic, no, l'argomento caldo che bisogna sempre tirarlo fuori, però è un po' diseducativo, perché vede questo tira e molla, questo fatto di fare la dieta e poi dopo dimagrire e poi dopo si riprende peso, questo tipo di stimolo per il metabolismo non è un qualcosa di buono, molti, quasi tutti i miei pazienti che poi purtroppo arrivano al tavolo operatorio, questo yo-yo l'hanno fatto, è proprio un leitmotiv che mi arriva tanto spesso, fanno tutti questa fine qua, poi si riprende sempre un po' di più, poi si dimagrisce, poi si riprende un po' di più e qua non è che stiamo parlando di essere un po' cicciottelli, un po' grassottelli, non piacersi, qua si parla di arrivare a dei gradi di accumulo di tessuto adiposo che diventano preoccupanti, pericolosi per la salute, quindi stiamo parlando di una condizione che genera un'alterazione del metabolismo, quindi il diabete, l'ipertensione, insomma tutta una serie di problematiche cardiovascolari e in un ultimo il capitolo tumorale che sembra associato all'obesità. Rosario Bassi, se accomodi lei, se vuole un po' anche rimanere, le offro il gelato, lo sarà inquadrato dai nostri cameraman, lei è presidente di Amando, associazione malattie endocrine per l'obesità. Mi racconti un po', come si fa? Lei ha soci, dopo ne sentiremo alcuno, qualcuno. Dunque noi siamo nati da poco. Non è che molti facciano, come dici il dottore, io lo traduco, come la fisarmonica, no? Io ho fatto come la fisarmonica, ma come tanti miei amici adesso, adesso sono fratelli e sorelle. Sì, succede quello. Io ho cominciato a fare diete quando ero 80 chili a 20 anni, poi persi chili, recuperati, sono diventati 90, persi, recuperati, sono diventati 100, finché all'età di 55-56 anni ero arrivato a 160. Come ha detto? Scusi. 160. Lei è venuto questa sera, altrimenti ne volevano due di quelle sceglie. Due? Certo, certo. E il problema che sia in aereo, sa, c'era un problema. Lei, se è andato in aereo, lo sa, perfettamente. Sì, sì. Facevo salti mortali, poi ho smesso per non chiedere le station. Ha smesso di andare in aereo? Ho messo di andare in aereo. Era umiliante chiedere le station. Tutti ti guardano se chiedi le station in aereo. Eh, però questo che lei si vergognava. Si vergognava. Ma neanche più di tanto, però diciamo che... Io voglio sapere poi se questo è vero. Adesso venite qui, faccio un salto io, se no, perché... Perché voglio provare. Poi preparatevi voi per l'estate, perché ha detto il dottor Bettini d'inverno d'estate, non facciamo la fisarmonia, ma come ci si prepara. Vorrei ascoltare... Dov'è? Eccola là. Io all'inizio parlavo con lei. Venga qui, che mi deve raccontare, perché lei ha uno spirito ironico, questa autoironia, si mette sempre in gioco. E ci scherza con il fatto, e della dieta, della fisarmonica, e dire ma il grasso fa bene. Mi vogliono bene perché... Allora, non adesso, forse era... Eh? Dica lei. Il grasso fa bene? No, fa bene per gli altri, la felicità... No, non è vero. Uno può, diciamo, stare bene con se stesso, forse anche con qualche chilo in più. Però, inevitabilmente, la salute a un certo punto viene compromessa. È quello che mi ha spinto ad affidarmi le mani, ad esempio, del dottor Bettini e della sua equip, perché io ero arrivata a 145 kg. 145 kg. Qui c'è una sfida su P100, eh, sappiatelo. Prego. Sì, no, ero arrivata molto su di peso, anche se, ad esempio, io in aereo, senza nessun problema, chiedevo l'extension. E gliela davano. Senza dubbio, perché no? Ma vede la differenza per l'uomo... Pagavo il biglietto. Ah, pagava il biglietto, però a lei gliela davano tranquillamente. Io tiravo il fiatto. Tiravo il fiatto. Vede la differenza in maschio e femmina? Io invece... No, non è maschio. No, 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 guarda, è una questione di mentalità, di modo di approcciarsi al problema dell'obesità, che anch'io ho vissuto esattamente come Rosario e esattamente come tanti amici che sono qui stasera. Semplicemente io sono stata un pochettino più tranquilla, un pochino più estroflessa, al punto che sono riuscita a chiedere l'extension, a non nascondermi, a fare le sfilate di moda, eccetera, eccetera. Lei ha fatto sfilate di moda, ha scherzato su se stessa, qualcuno mi dice, ma è ironica, bravissima, ride di sé. Sì, io le ho fatte perché dovevo nascondermi. In fondo, cioè, voglio dire, non ci trovavo niente di male. L'ho sempre considerato comunque una cosa mia, un mio modo di essere, che quando ho sforato nella patologia mi ha messo... ho avuto l'idea che era ora di cambiare vita, però la mia vita non ha avuto limitazioni. Dottor Bettini, allora, partendo da questo caso concreto, scatta prima culturalmente, quindi nella mente della persona, poi viene da lei, lei è intervenuto, però se non c'è il primo elemento di base, che è quello della convinzione personale. Allora, tutta la medicina moderna si basa sul rapporto medico-paziente e su un consenso. È chiaro che io non impongo a nessuno di fare un certo tipo di percorso, ed è il paziente che viene a chiedere aiuto al medico. È chiaro che quello è un momento fondamentale, è il momento in cui scatta qualcosa, in cui, non so come dire, nella rabbia che prova il malato contro se stesso, contro il suo comportamento, impara a canalizzare questa rabbia in maniera positiva. e dice, boh, io devo reagire. Noi abbiamo organizzato con i nostri pazienti uno spettacolo anche teatrale. Volevo parlare, non so se la nostra regia abbia queste immagini del vostro spettacolo teatrale. Questo aspetto emerge molto, nel senso che uno degli elementi che noi abbiamo voluto affrontare con questo, diciamo, strumento alternativo così poco medico, è quello di fare capire non solo come si sentiva e come si cadeva nel problema dell'obesità, ma anche il momento in cui scatta quel bottone in cui loro riescono effettivamente a dire diamoci un taglio, cerchiamo di reagire, troviamo un modo di cambiare. Ha capito? Quello è fondamentale. Mi inquadrati? Prego, prego. Io vorrei sapere, perché a me che sono magra e senza difficoltà, continuo ad essere, ma anche se tengo sempre un regime alimentare, ecco, diciamo, non sono a dieta, ma sempre mi controllo. Guardate quelle immagini, chiedo scusa, le immagini che stanno scorrendo di questo teatro, di questa esposizione teatrale del gruppo Amando, del gruppo degli Obesi, del gruppo... Obesos? Obesos. Ah, Obesos. Prego, prego. Allora, volevo chiedere, per diventare 160 kg, quanto bisogna mangiare? Voglio dire, com'è la giornata di uno che cresce fino a 160 kg? È condizionata continuamente dal cibo? Si mangiano quantità enormi? Oppure di fatto quando uno raggiunge un certo peso non è poi così difficile continuare a restare grassi? Presidente, direttamente, poi anche il dottor Bettino... Per dire la mia esperienza, io alle due di notte andavo nel freezer da ragazzo a mangiare gli gnocchi di patate surgelati e si mangia di continuo. Io ho contenuto abbastanza il peso fino ai 45 anni, quindi sono diventato obeso grave già a una certa età, quando ho avuto problemi sul lavoro. E mi rendevo conto, ma continuavo, nel senso che lì sono passato dai 130 kg ai 160 nel giro di qualche anno, ma proprio di qualche anno. Cosa scatta però? Questo è il punto. Qual è il sensore che fa scattare? Allora, secondo me, un senso di sicurezza, il cibo un pochettino ti gratifica da un certo punto di vista, ma a volte io penso perché mi stavo suicidando con il cibo? Bella domanda questa, perché mi stavo suicidando con il cibo? La sua esperienza? Invece la mia esperienza è l'insicurezza, a volte l'insicurezza, la mancanza di sentirti in mancanza d'affetto, ma soprattutto l'insicurezza che ti dà questa voglia di mangiare, questa voglia di sentirti, cioè nella società fai di tutto per apparire in qualche maniera uguale agli altri, allora tu ti sforzi, fai più fatica, fai le cose correndo anche di più degli altri per farle. Poi arrivi in casa che sei spossato e alla fine cosa fai? Per, come devo dire, per sentirti meglio, per sentirti appagato, mangi, mangi, apri il frigo, poi mangi, poi dici ma mi sento inadeguato, adesso mangio. Hai capito? Il frigo è sempre lì a portata di mano. Una ciliegia tira l'altra. Sì, perché il cibo, come le varie dipendenze del cibo è lì, non è come tu lo devi andare a cercare, ce l'hai lì ed è molto facile incorrere ad aprire il frigo e mangiare. Ma se il frigo è vuoto, lei cosa fa? Ma il frigo non è vuoto, perché anche adesso che sono calato il mio frigo è strapieno, non mangio, ma il mio frigo è strapieno, lo devo sempre tenere pieno. È come avere il pacchetto delle sigarette quando tu smetti di fumare in mano. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Io però adesso vorrei darvi una testimonianza, perché il dottor Bettini prima ha detto, viene l'estate e io devo mettermi il costume, devo andare in spiaggia, come mi devo preparare, oppure quando viene l'inverno, come mi preparo l'inverno. Noi abbiamo make up, venga qui con me, venite qui. Cosa chiedono, soprattutto le giovani donne, cosa chiedono? Anche noi, perché oggi non è cambiato molto, anche noi. La cura della propria persona e del proprio corpo è anche cura dell'aspetto fisico a livello proprio del viso, della faccia. È importantissimo tenersi curati nella pulizia, nell'idratazione, ma anche nella make up. Io sono Raffaella Tabanelli, sono una truccatrice, ho un'accademia a Solarolo, un'accademia di trucco, dove formo allieve per diventare trucatrici, ma anche insegno le persone a tenersi cura di sé. Quindi faccio corsi self make up, dove si parte proprio dalla base. Dalla base, la base nel senso come ci si strucca in modo corretto, come ci si pulisce il viso in modo corretto e come ci si trucca. Ti chiami? Oggi ho preparato Elisa. Elisa. E come l'ha preparata? Allora, su Elisa ho fatto una buona pulizia del viso e poi dopo ho preparato con un primer la pelle per essere perfetta per il trucco di lunga durata. Allora, questo non così si presenti in spiaggia? No, così in spiaggia no, così in trasmissione. In trasmissione. Sì. In trasmissione. Eh sì. Quindi ti avvali sovente. Elisa è una mia allieva che ha fatto il corso per diventare truccatrice. Oggi l'ho preparata io, ma lei è diventata anche molto brava a truccarsi. Le ho messo proprio tutto, dalla base, il primer, il correttore, il fondotinta, cipria, tutti gli ombretti belli per l'estate. Questo è un bellissimo trucco per l'estate perché quest'estate andrà il viola, il prugna e il fucsia. Ecco, guardate, questo qui è una viola, fucsia e lei ha fatto vestire con questi colori. Il riflesso è tale. Elisa è, non dico una prugna, un prugnolo. Ah sì, sicuramente no, ragazza, bellissima. Bellissima. Quindi auguriamo a Elisa di riuscire in spiaggia. Grazie. Con questo vi abbiamo dato la dimensione, almeno per il momento, perché dopo vorrei invece approfondire il tema, come devo dire, quello più gastronomico, per capire come ci si deve comportare, il quadro delle esperienze fatte. Quindi adesso ai nostri ospiti il commento. La nostra amica giornalista ha già detto, voleva sapere. Certo, perché in effetti questo meccanismo del mangiare troppo è evidente, che nasconde dei bisogni attraverso i quali il cibo, insomma, compensa queste mancanze. Però io credo anche che sia tipico della nostra epoca, dove c'è una quantità di cibo immensa, continuamente a disposizione, buonissimo, stuzzicante. E anche questo è un problema grave. Poi secondo me c'è un altro problema, che non so se è tipico di molti, perché si riferisce soprattutto a coloro che spesso mangiano fuori. Allora, lo dico a Leonardo Spadoni, che ha due ristoranti veramente meravigliosi. I ristoratori hanno una loro responsabilità, perché i piatti devono essere calibrati, non devono essere eccessivi, devono avere quantità piccole, ma assolutamente, diciamo, di una grande qualità intrinseca. Non sei d'accordo? Dottor Spadoni, piatti, diciamo che a parte che adesso sono già cresciuti a 5 i ristoranti, e quindi fra poco, quando faremo la prossima trasmissione, 27, 8, 10? Vediamo, vediamo. Posso fare una domanda prima che lei risponda? Lei è mai stato tentato di dire, oddio, due chili in più no, ma due in meno sì? Sì, questo naturalmente credo che sia oggettivo e tra l'altro sentivo queste storie, che poi in fondo stiamo parlando di storie personali. Io ad esempio alla fine dell'università fui scartato dall'esercito perché aveva un rapporto altezza-peso, quindi si cambia nella vita. Posso testimoniarlo, l'ho conosciuto per la smilzo. Esatto, però si può anche poi cambiare, tornare indietro, fa parte del bello della diretta della vita, quindi sicuramente è così. Ecco, io posso dire, ad esempio, che in quella cosa piuttosto stupida che TripAdvisor, se ci sono delle critiche è sempre perché i piatti sono scarsi. Questo è una costante del mondo, quindi voglio dire, è vero, però tu non puoi obbligare le persone dandogli una mezza porzione, un quarto di porzione, perché non è fattibile. Naturalmente questo in termini di quantità, in termini di qualità il discorso è profondamente diverso. Io appunto ritengo che tutto quello che bisogna fare e che si può fare intanto è partire da ingredienti di assoluta qualità. Credo che in un mondo come il nostro, che è diventato un mondo, quello della gastronomia, un mondo dagli ingredienti complessi, dove l'industria fa e continua a sfornare prodotti spesso molto distanti dalla tradizione, spesso molto anche complicati. La responsabilità sia lì, cioè nel fare e nel dare prodotti di assoluta qualità. Forse la responsabilità, e mi pare che questo sia un po' un discorso che viene fuori complessivamente, è che si lavora per mondi troppo distanti. Io almeno quello che cerco di sostenere è che dovrebbe esserci una vicinanza fra il mondo della ristorazione, i cuochi, le scuole alberghiere, anche perché poi, ripeto, già noi siamo intorno ai 120-130 dipendenti nel mondo della ristorazione, è esclusivamente lì, e arriveremo a 200 entro la fine dell'anno tra una cosa e l'altra, e quindi c'è bisogno di trovare della gente adeguata, preparata, e dietro avere un rapporto costante col mondo medico, che poi significa anche per l'industria avere dei prodotti che siano coerenti con quello che i medici suggeriscono, che poi possano andare con dei sistemi anche di cottura rispettosi, dalla bassa temperatura, tante cose che sono fondamentali, direttamente sulla tavola. Quindi c'è tanto da fare da questo punto di vista, ridurre le porzioni credo che sia più difficile. Nel vostro caso, però ci sono ristoranti che... Non è possibile, abbiamo capito, io ho visto, però, dottor Spadoni, Elide, ormai un po' in tutti i ristoranti, magari te ne danno in più, ti porti la vaschetta e te li porti a casa. Certo, il doggy bag, come si dice. Tu paghi la tua porzione, paghi la staccia, c'è uno di noi. È una cosa fondamentale. Fondamentale. Anzi, devo dire che il rispetto del non buttare via le cose e del riciclo, secondo me è fondamentale. E lei fra tutti i grandi ha dimenticato l'Indo Guerrini, Stecchetti, che secondo me è stato forse il più grande, a parte un grande critico, oltre che un grande amico di Artusi, ma che ha fatto delle pagine anche divertentissime proprio su questo. In questo campo io associerei, anche perché questa frase è fortissima ed è molto bella, di Tonino Guerra, quando dice l'ottimismo è il profumo, il sale della vita. Lì ci sta proprio anche il buon vivere, che dà l'ottimismo, il buon bere, il grande Tonino Guerra. Tutti i magri e tristi, non so se... No, davvero? Lei vuol dire che i magri sono un po' tristi e quindi... No, no, io dico che, anzi, condivido quello che dicevano perché effettivamente l'ideale sarebbe quello di trovare un buon equilibrio con se stessi e probabilmente ridurre sistematicamente un certo tipo di eccessi perché le diete sono sempre un fatto di rinuncia e le rinunce sono sempre tristi. C'è sempre un adagio latino, lo uso ancora, mens sana, incorpore sano. Caro dottor Bettini, a lei. Allora, il discorso, a me fa molto piacere il modo con cui viene affrontato il discorso alimentare dal nostro ospite. Allora, il problema è che nelle industrie alimentari chiaramente bisogna venderlo il prodotto. Allora, c'è tutta una serie di alimenti a basso costo e a, diciamo, palatabilità molto stuzzichevole che invece invadono il mercato. Per cui, bibite molto dolci, quindi invece di bersi l'acqua, non dico, non voglio parlarmi del vino, però, insomma, si bevono tutti gli alimenti con zuccheri, ma perfino aggiunti ad alimenti che normalmente non li conterrebbero. Quindi ci sono anche degli zuccheri occulti. Forse uno dei capitoli recentemente più sviluppati è quello di come c'è un eccesso di zucchero più che di grassi nell'alimentazione, che è uno degli elementi forse che sta emergendo un po' di più anche nell'opinione pubblica. Grazie, io vorrei concludere questa seconda parte. Ho con me, guardate, Mauro, se puoi inquadrarmi in questa copertina di questo libro, che è molto bella, Fabrizio Borghetti. Non sono grasso, sono di osso grasso, grosso, grosso, grosso. Dottor Borghetti, è uno, ho racconto, il capitoli, eh? È il mio secondo libro, è stato per sette mesi uno dei libri più venduti in Italia sul dimagrimento e elenca tutta una serie di diarie e di scuse che spesso le donne utilizzano per dire che è stata la tiroide. Loro non c'entrano niente e quindi è stato, sono di osso grosso, sono nata così. E quindi è un libro umoristico che affronta il dimagrimento da un aspetto diverso. È accompagnato della, te la do io la dieta, eh? Esatto. E quello è il mio ultimo libro, sta per uscire, il mio terzo libro, sta per uscire il quarto libro e si riallaccia a quello precedente. Ma lei è uno specialista ormai, IT Coach, è uno specialista a livello nazionale. Io mi occupo, assieme alla mia compagna, di alimentazione e di allenamento a scopo di dimagrimento. Cioè credo che si sia perso un po' la capacità di poter pensare che noi ci siamo dovuti adattare a rincorrere o ad essere rincorsi per 6 milioni di anni. Bene, adesso facciamo una cosa, dopo sentirò la sua compagna, come vegani, vegetariani, come si prepara, i dolci che qui abbiamo, ma soprattutto anche i piatti. Riprenderemo subito dopo, adesso andiamo un po' in pubblicità, eh? Ecco, io inizierei adesso dando a voi la possibilità di tirare le conclusioni, perché il bello deve ancora venire per alcuni aspetti che non sono autorizzato a rivelare. Io con i ragazzi che hanno vinto il premio, a proposito di questo libro che ho qui con me, che è stato presentato dal professor Carnaccini, Una ricetta per il cuore. Mi fate passare davanti alla telecamera, grazie, i ragazzi. Allora chi è che parla di voi? Chi è? Eccola. Perché c'è sempre qui... Prego, dottor Carnaccini, diceva? Questo professor che mi ha guidato con il suo cuore ha visto dei finalisti e questi sono tra quei 12 finalisti che hanno partecipato per la gara finale. Io e l'altra ragazza. Io ho avuto il premio del primo e ho fatto questo piatto con il riso integrale venere. L'ho chiamato insalata di riso, ho scelto il coniglio aromatizzato, cotto sotto vuoto, e ho scelto il riso integrale perché contiene più fibra e ha notevoli benefici, e l'ho condito con delle verdure, tra cui le carote e i pomodori, che ho scelto di non cuocere per mantenere i sali minerali e le vitamine che ha dentro. Bravissimo, bravissimo. Vogliamo sentire anche... Io invece ho vinto il primo antipasto che è composto da un carciofo e si chiama Il piatto, si intitola Fiori in Giardino, ed è stato anche un bel concorso perché mi sono divertita tanto e devo ringraziare la nostra scuola. È un piatto molto leggero perché comunque ha una cottura in bianco, quindi non è senza olio, senza cose molto grasse e quindi niente. Grazie, grazie. Dottor Candacini, professore, è vero che comunque oggi sono un momento coloro che scelgono gli istituti alberghieri e magari anche l'agrario, sono i due che sembrano insieme ovviamente al classico che è lo scientifico nei vari rami, però questi sono due che stanno riscuotendo un grande successo tra i giovani e le famiglie, soprattutto per le declinazioni di lavoro nel futuro. Forse dobbiamo dire grazie anche ai mezzi di comunicazione che naturalmente presentano tante tipologie di cucine. L'enogastronomia è sempre spesso in primo piano e questo lo vediamo anche. Il nostro istituto poi si sta anche affermando molto in tante competizioni anche a livello nazionale e forse anche per questo, forse riceve un'immagine molto buona, molto positiva e stiamo riscontrando continue adesioni. Noi cerchiamo di coinvolgere sempre di più i nostri ragazzi e questo si vede anche dalla passione che hanno. Insomma l'Artusi vi tiene sotto l'ala. Franca Verturini, tutto questo popò di roba, cosa rappresenta? Si alzi in piedi e ce lo dica. Lei è vegana, vegetariana, perché abbiamo dimenticato quel filo, macrobiotica, e poi tanti nomi strani di diete strane, tantissimi, dopo mi aiutate, è vero? Prego. Beh, diciamo che sono Franca Verturini, appunto rappresento Combar a Cesena, che è una realtà, è un chiosco, una realtà nata nove anni fa, dove trattiamo principalmente tutto a base di frutta e verdura. Questo è un esempio, Combar, Combar, perché in dialetto romagnolo comunque il cocomero è Combar, ma non è solo cocomero. Guardate che bello, Com, guardate, Com, chiocciola bar, e Combar, e Combar. Esatto, perché in realtà è anche bar, è una realtà, è tipo una piccola gastronomia fatta a chiosco in un giardino, ed è nata proprio per dare la possibilità a tutti di trovare anche frutta pronta, dalle macedonie, centrifughe, frullati, insalatone a pranzo. Io so che lei opera nella zona ipodromo a Cesena, quindi fra poche settimane inizia l'attività ipodromo, metà estiva, la sera, quindi qui si dedicano. Ma noi lavoriamo tutto il giorno, anche a pranzo lavoriamo tantissimo. Cresce il consumo, perché io dò le statistiche dopo, non so se le recupereremo attraverso slide, di coloro che invece non è che sia elevato il consumo di frutta e verdura. Noi lavoriamo tantissimo, anzi ringrazio tutti quelli che ci scelgono, proprio perché siamo l'unica realtà a Cesena in un giardino all'aperto, e lavoriamo con cose pronte, per cui sappiamo tutti che anche le donne hanno sempre più fretta, ed è più difficile ormai preparare una macedonie a casa che mettere una bistecchina in padella, girarla ed è pronta. Grazie, grazie Franca Ventolini. Lei, che so che è insegnante anche lei, mi metto a sedere di fronte a lei? Buonasera, sì. Guarda, vada. Ah, io sono qui in qualità di ospite, in quanto è cliente del Comba. Mi dicono, senza premesse. Prego, ma il riscontro molto come insegnante, e questo è un problema molto serio, quello di cui accennava prima il professore, è questo consumo esasperato di bevande zuccherate. I ragazzi fin dalla prima mattina, purtroppo, ad opera anche, cioè, magari anche con il bar all'interno delle scuole, che facilitano fortemente questo utilizzo e consumo di bevande alimentari zuccherate, ne fanno un uso spropositato. Noi all'interno della scuola abbiamo dei programmi. Bene, prego, i programmi che lo dicono, velocemente. No, no, ci occupiamo anche di prevenzione, di alimentazione, ma nonostante questo, l'abitudine tra i ragazzi è proprio quella del consumo eccessivo, non solo di cibo, ma soprattutto di bevande zuccherate, eccessive a mio parere. Bene, grazie, anche perché vorrei ricordare ai nostri telepettatori, c'è una fiera, in quel di Milano, a lei do intanto il microfono, che misura l'aumento spropositato dei venditori, delle vendite automatiche, automatiche di bevande, e quindi gli zuccheri presenti in queste bevande sono all'origine, dove il dottor Bettini, a tutti voi endocrinologi, sono all'origine, alla base, non è tanto il mangiare, quanto nel fatto specifico, i ragazzi, adesso non posso fare i nomi, non voglio fare pubblicità, presenza di zuccheri in queste bevande. Qui c'è un altro piatto, guardate, me lo inquadrate, alcune cose molto interessanti, che vorrei che mi descrivesse la signora. Prego. Io mi chiamo Francesca Romani, ho un laboratorio artigianale di biscotti e dolci, torte vegane a Bologna, ed è la realizzazione di un mio progetto, di una mia passione, che è diventata progetto e che ho cominciato a concretizzarsi, in particolar modo dopo la nascita del mio bambino, quando ho cercato di... Che è qui in tribuna, che è qui in tribuna e l'osserva. Sì, qui dietro. Dove ho cercato un po' di migliorare in generale il mio stile di vita, quindi cercare di mangiare più leggero e, visto che sono golosa, ho cominciato a cucinare i dolci togliendo invece che mantenendo i classici ingredienti. Quindi ho cominciato a togliere latte, burro, uova, sostituirli e ho visto che i dolci erano molto buoni, mi piacevano molto, ho fatto dei corsi di specializzazione e poi da questa passione ho provato a realizzare il mio laboratorio, ci sono riuscita e sono molto contenta di questo. Quindi laboratorio in pasticceria, ma anche lei pensa al futuro? Sviluppare altre linee? Mi piacerebbe, mi piacerebbe. Adesso sono, diciamo, sono appena nata, sono molto giovane come laboratorio. Come laboratorio, ma è giovane anche come signora. È giovane. E quindi per il futuro si ha molti progetti che mi piacerebbe portare avanti, molte idee. Speriamo di... Come si definisce lei? Vegana, vegetariana? Io sono... Da dove è partita lei? Io sono vegana per quanto riguarda i dolci. Sono partita da un desiderio di mangiare i dolci, visto che sono golosi più leggeri. Quindi togliendo. Allo Stato cerco di avere un'alimentazione il più possibile equilibrata, varia, cercando di mangiare il meno possibile proteine di origine animali, di sostituirle con proteine di origine vegetale. Ho un'alimentazione varia, completa e io uso farine biologiche, integrali e semi-integrali per i miei dolci e cerco di prestare molta attenzione alla qualità delle materie prime che utilizzo. Grazie. Io chiedo alla regia, chiedo consenso sempre di passare davanti alle telecamere, perché dopo la nostra regia dice, sapete che il linguaggio si dice impatta, perché si passa davanti e si toglie la visibilità. Però dimenticavo anche di presentarvi, di concludere, perché ha lavorato insieme a Borghetti. Ci lavora ancora. Ci lavora. Abbiamo aperto insieme uno spazio, l'Alpha Zone Lab. Come ha detto? Alpha Zone Lab. Alpha Zone Lab. Cioè siamo l'initi. Alpha Zone. Perfetto. Alpha Zone Lab. Quindi è uno spazio che potremmo chiamare banalmente palestra, per noi è qualcosa di più. Perché è una scuola di forza, quindi uno spazio dove alleniamo i nostri clienti, ma cerchiamo di lavorare sulla forza a 360 gradi. Quindi un discorso sia fisico, di benessere, ma anche di consapevolezza con il proprio corpo. In questo modo a volte anche una programmazione alimentare può diventare piacevole. Perché è la consapevolezza che attraverso il mangiare sano e avere uno stile di vita a 360 gradi sano, che passa attraverso quindi anche un movimento giusto, si possono ottenere benefici, esatto, i risultati. Che possono essere anche duraturi. Sono corsi, leggo qui. Sì, sono dei corsi. Imparerai a divertirti cambiando il tuo corpo. Esatto, però abbiamo iniziato parlando proprio di piacere e anche quello vuole essere uno spazio piacevole, dove appunto si fa fatica, ma con la consapevolezza che quella fatica ha uno scopo più grande. Bene, è molto interessante vedere anche questo solo cuore, dolci, vegani, sanni e gustosi, quello di cui ci ha parlato la signora. Dobbiamo venire per forza a Bologna? Sì, al momento sì. Al momento il mio laboratorio è a Bologna. E non ha il gelato, me lo deve il gelato. Vede, lei lo deve fare il gelato senza... Ci pensa Grom. Sì, al momento io sono a Bologna, il mio laboratorio è a Bologna. Sì, sì. Bene, grazie. Credo di avere concluso se qualcuno non deve aggiungere altro. Chiedo alla regia di prepararmi intanto questa scheda, questa slide, mi dà il gelato, lo slide, che è la numero 3 che parla di disturbi alimentari. Poi si prepari lei con i ragazzi. E vediamo. Simonetta Giunchi. Il quadro è il seguente. Endocrinologo si prepari, perché almeno questa è la fonte di un giornale. Che vedete sotto, dice, in Italia, stime del Ministero della Salute, oltre 3 milioni di persone, soprattutto giovani, sono affette da disturbi alimentari in primis anoressia. Nel 2016, ultimo dato disponibile, tutto ciò è stata causa di morte, causa di morte di numero 3.240 persone. Poi, dottor Bettini, lei, perché scriveremo subito dalla fonte dicendo che sono sbagliati, se sono sbagliati. 500 mili italiani sono diventati orto-ressici, che è l'ossessione del cibo sano. Dottor Spadoni, deve essere sano, se no non vengo da lei. E quindi sono orto, come dice, ressico. Oltre 300 mili italiani sono... Non è gravissima. No, non è gravissima. Di fronte, soprattutto, al discorso opposto, non... Visno-ressici, ostaggio degli integratori. Anche questo è interessante. Forse anche Ita, Coach e tutti voi, può aiutare me. Andiamo in palestra, dobbiamo irrobustirci, dobbiamo... Gli integratori, altre manie. Moduli mentali, ietismo vari, abuso di sostanze, alco, rapporto con i social. Queste le origini. Poi, 70% la possibilità di guarigione. Dottor Bettini, è vero. Se si interviene nel primo anno di malattia, endocrinologo e il dottor Bettini. Prego. Allora, non lo so adesso. Di quale malattia entro il primo anno? Nel senso, adesso, io... Gli parla di disturbi alimentari. Fonte, lei... Io non dico mai niente di mio, ma c'è la fonte. Quindi ci marzo. No, no, sono d'accordo. Adesso, io mi occupo di obesità. Quindi, non voglio invadere un campo che è quello dell'anoressia, della bulimia. Lì, si entra sempre in problematiche, probabilmente, che riguardano, forse, il rifluto della crescita. Adesso, qua ho psicologhe, per cui, veramente, mi sento un po' al di fuori. Mi rifaccio ai miei studi da medico, insomma, la mia preparazione è di base. Ma lei si sente un po' stretto qui. Desidererebbe essere in sala operatoria per vedere di intervenire. No, nel senso che, diciamo che ormai ho qualche capello bianco e mi sento di rispettare i ruoli di tutti. Quindi, insomma, quando si comincia a parlare di anoressia e bulimia, bisognerebbe parlare più con dei medici o dell'ambito pediatrico o di uno psicologo. Quindi, io faccio chirurgia dell'obesità, veramente, mi sembrerebbe di invadere. Già dopo mi farà fare una cosa al di fuori della mia ruolo e mi giocherò tutta la mia credibilità di questa sera. Però, insomma, non vorrei entrare. È chiaro che, per quanto riguarda l'obesità, qui magari spendo qualche parola, forse gli interventi dovrebbero essere effettivamente fatti molto precocemente. Qualcuno dice prima dei dieci anni. Allora, c'è tutto però, noi quando parliamo di obesità, cerchiamo sempre di lavorare e commentiamo che è un problema dell'individuo. Allora, io lavoro sull'individuo, per carità, io proprio lavoro sul corpo di quell'individuo. Però ci sono tutta una serie di condizionamenti esterni, la famiglia, il fatto di vivere in città, la regione dove si vive, insomma, ci sono tutta una serie di condizionamenti, quindi gli interventi dovrebbero essere il mio, è uno dei tanti, ma bisognerebbe intervenire a tantissimi livelli, compreso quello dell'industria alimentare. Intanto che preparano la slide numero 4? Lo fa Clinton a livello mondiale, partendo dagli Stati Uniti, questa lotta all'obesità nel contesto. Per arrivare alla slide 4, lei mi commenti pure questi dati? Lei è endocrinologa? Sicuramente questi dati corrispondono alla realtà. Questi sono altri, guardi, mi scusi se la interrompo ancora, in Italia 1 milione e 800 mila persone hanno scelto una dieta alimentare priva di carne e di derivati animali. Nel 2016 il 35,3% della popolazione adulta era in sovrappeso. Qui mi dovete confermare. Solamente il 23,8% praticava uno sport, solamente 2 italiani su 10 consumano il giusto quantitativo di frutta, e solo 3 su 10 quello di verdura. Il 40% degli italiani ritiene di essere nel peso giusto, il 5,4% nel peso ideale, il 37,8% leggermente in sovrappeso, e solo il 16,8% in sovrappeso. Prego. Anche questi dati corrispondono a realtà. Io vorrei fare un po' di considerazioni, un po' anche sui discorsi che sono emersi questa sera. Basti pensare al progetto che hanno fatto i ragazzi della scuola di Artusi, dove si sono preoccupati di costruire delle ricette che potessero preservare la salute del cuore. Quindi siamo partiti da una condizione di malattia, che poteva essere l'obesità o il disturbo del comportamento alimentare. Non è altro che comunque una manifestazione diversa, ma sempre di un disturbo del comportamento. Oggi i progressi ci hanno permesso di guardare un pochettino più avanti e non più soltanto all'approccio in termini di terapia, ma a pensare alla prevenzione. E questi dati richiamano la prevenzione, perché comunque tante patologie hanno ritrovato fra le loro cause l'interferenza con le nostre abitudini alimentari, quindi il consumo di carni animali per alcune patologie, la cura di patologie del sistema nervoso con alcuni tipi di alimentazione, alcuni tumori, come diceva prima Dario, hanno una correlazione con quanto e come noi mangiamo, alcune recidive tumorali possono essere prevenute dalla nostra alimentazione. Non dimentichiamoci che la nostra dieta mediterranea è stata nominata un patrimonio dell'umanità, ed è l'unico stile alimentare che ha questo titolo. Se non noi italiani forse non ne siamo tanto consapevoli, prego, dottoressa Giunchi. Stiamo concludendo, quindi vi prego, interventi per tutti, brevissimi. Allora, i disturbi del comportamento alimentare sono dei disturbi gravi, quindi non vanno trattati come una, diciamo, per esempio un'obesità che comporta, può comportare semplicemente, diciamo, il cambiamento di stili educativi, quindi una psicoeducazione alla base e allenamento che permette di, diciamo, di andare a una risoluzione e a ridurre il peso. C'è un'obesità che ha a che vedere invece con una fragilità psichica che, per esempio, è legata a degli eventi traumatici che sono avvenuti dall'infanzia, l'obesità come i disturbi del comportamento alimentare, dal momento che lo psichismo si crea fin dall'infanzia e quindi è nel rapporto con i caregivers, cioè i modelli primari, la madre in primis, che si possono creare delle... si possono creare... state facendo confusione, io non riesco ad andare avanti, scusate... posso approfittare per dire una cosa? vedo un gran movimento e mi sono distanza. No, lei non mi deve rispondere, solo i movimenti li lasci andare. Soltanto una cosa brevissima, io voglio spezzare. Vanno tentando di capire cosa stanno preparando i ragazzi perché sono attratti, eh? A questo proposito io vorrei spezzare una lancia in favore delle scuole alberghiere. Si dice che in Romagna si mangi bene, io credo che buona parte di questo mangiare bene venga fuori da queste ottime scuole alberghiere che ci sono nella nostra regione. Adesso ci facciamo. Bene, se ha ragione venga con me. Me l'aspettavo, eh? Venga con me qui. Poi se approssimi ai ragazzi ci descriverà i piatti. Prego, aveva terminato? No, un po' alla volta tutti, due passaggi, lei terminava in su? Parlare in sintesi di queste problematiche non è facile. Sto cercando di sintetizzare, ma è veramente difficile. Quello che volevo dire però è che alla base dell'obesità, quindi la ricerca del cibo può essere legata al fatto che si ha bisogno di compensare un vuoto interno oppure c'è la difficoltà di gestire l'angoscia, autorregolarsi dal punto di vista della rabbia, delle paure che emergono. Perché? Perché ci sono degli fattori, degli eventi che viviamo nel presente che possono essere particolarmente o traumatici o semplicemente riattivare antiche memorie che abbiamo nel nostro passato, per ognuno di noi ci sono. e quella, la condotta alimentare, è uno dei tanti sintomi, perché è un sintomo che porta a compensare questo. La devo interrompere perché i tempi non ci sono dati per affrontare. Dottoressa Pullara, velocemente, il suo punto di vista? Io volevo semplicemente dire che a volte queste ossessioni, la vigoressia, quindi l'ossessione anche per il cibo sano o l'ossessione del gluten free, a volte possono anche nascondere in maniera sottile dei disturbi alimentari di tipo restrittivo, soprattutto l'anoressia nervosa. Quindi è proprio fondamentale riuscire a captare questi segnali in maniera tale da inviare proprio la persona ai servizi, poi al servizio di psicologia e così via. Grazie. Dottoressa. I colleghi, è importante questo approccio multidisciplinare, sia in tutte le strutture che si occupano di problemi del comportamento alimentare, avere vari tipi di figure per un approccio integrato. Dottor Spadoni, brevemente la prego perché io anche di fronte al guru debbo dire breve. Le sue conclusioni. Gli spunti sono tanti e credo che dei tavoli comuni servano veramente. Dico che come industria è possibile fare tanto, noi ad esempio stiamo facendo uscire del pane assolutamente senza sale, il problema è che fosse altrettanto buono ed è straordinario, devo dire. Quindi ci sono parecchie cose, ad esempio sui cibi è possibile introdurre degli amidi che rallentano la botta glicenica che segue sempre al passo. Quindi c'è veramente il mondo da fare. Di fibre ce ne sono di mille tipi anche molto interessanti da linulina, a mille versioni adatte alle mille caratteristiche o alle mille problematiche che ci sono all'alimentazione. C'è veramente il mondo da fare e dico questo, bisognerebbe, anzi ne approfitterò magari scambiandoci anche le mail, mettere a punto dei prodotti anche assieme. Cioè è un piacere perché veramente i colori ci sono tutti oggi per fare tutti i tipi di quadri. Bisogna avere l'idea chiara e l'idea chiara è quella medica, non è certo l'altro punto di riferimento ovviamente però è quello del gusto perché senza il quale è difficile combattere. Velocemente, velocemente la prego perché lei intanto con il dottor Bettini e tutti voi dovete raccogliere l'invito del dottor Spadoni a lavorare insieme per produrre qualcosa di interessante. Vi assumerei in una frase brevissima che trago da Molière. Addirittura, lavare, non da lavare, no. È il buon cibo e non le belle parole a mantenermi in vita. Ma è bella davvero questa cosa dice il padone. Io dico quello che diceva che diceva Schultz che diceva tutto quello che cerchi o è dentro di te o è nel frigorifero. È nel frigorifero. Bella anche questa dottor Bettini. In conclusione si prepara intanto il nostro istituto. Troppe citazioni. Allora, sul sale visto che è stato tirato in balo la tiroide poco sale ma iodato. Perché noi ci dimentichiamo dell'importanza di questa cosa. Nei bambini noi abbiamo in Italia un tasso di gozzo infantile inaccettabile. Quindi poco sale ma iodato. È una cosa drammatica il tasso. Mi vengono a me a chiedere ma com'è che abbiamo tutto questo gozzo? Noi abbiamo ancora nell'industria alimentare nelle mense scolastiche ci sono delle indagini ministeriali che fanno vedere ancora un impiego di sale iodato bassissimo sotto il 20%. Una cosa inaccettabile. Grazie. Intanto che la nostra legge mi manda guardate che è interessante le slide 1 e 2 perché noi stiamo parlando del guru del nostro vicino che è qui ripeto ancora per noi il guru però dobbiamo anche sapere che mentre siamo uno dei paesi a livello mondiale importanti sotto il profilo dell'enogastronomia però vi sono marchi che se ne sono andati sono proprietà non italiane li vedete alle mie spalle? Guardate l'acqua i cioccolatini il latte i formaggi i gelati l'ultimo è stato il grom i gelati lo zucchero abbiamo parlato della Christian Union in Francia poi la pasta pasta buitoni e della Nestlé svizzera l'olio Bertolli Carapelli Sasso e della Deoleo Spagna spumante gancia della Tarico Russia e il vino una parte del Chianti del Jiu Tzu Cina poi il pane il fondo di Carlyle USA l'aceto l'aceto balsamico Associated British Food pomodori addirittura insomma però dobbiamo dire anche che si stanno affermando dei grandi marchi italiani in giro per il mondo Ferrero uno di questi ma vicino a noi Granarolo il latte probabilmente molto presto Spadoni eccetera eccetera bene allora Chef allora il messaggio che noi volevamo dare stasera era praticamente di continuare ad utilizzare all'interno dei nostri piatti dei prodotti con delle calorie che si fanno sentire ad esempio in questo caso la stracciatella in quest'altro caso le uova li stanno inquadrando in questo momento perfetto qui ci rifacciamo a quello che diceva il dottor Spadoni l'utilizzo di cotture a bassa temperatura in questo caso abbiamo proposto un uovo cotto a bassa temperatura quindi il valore nutrizionale è un pochettino diverso però facendo questo qual è il messaggio è quello di invece di dare le classiche due uova al tegamino in questo caso ne diamo solamente un uovo giochiamo un pochettino con gli asparagi in questo caso fatti in tre consistenze diverse e questi queste barchette sono praticamente dei finger che ovviamente alla fine consumeremo assolutamente sì in onore della dieta in onore della dieta e del buon mangiare e praticamente è questo piatto proposto ed è quello che avevamo detto prima stracciatella alici marinate da noi lì a scuola fresella per dare un po' una nota croccante erbe spontanee che sono tutte queste che possiamo trovare nei nostri campi che sono la Pimpinella la Buon Enrico la Valeriana la Bietolina a proposito di olio vi posso garantire questo è il brisighello di brisighella non è quella di cui abbiamo parlato prima che è andato finito in Spagna come altri prodotti grazie per il momento faccio un ultimo tentativo per 20 secondi chi qualcosa di voi vuole aggiungere intanto il dottor Bettini lei cosa trae da questo? ma allora pochissimo tempo perché dopo ho una sorpresa il mio interesse è quello ad esempio io sono molto preoccupato per l'obesità infantile l'Italia purtroppo ha un triste primato e quindi nelle scuole qua il comune ci ha chiesto di cercare di mettere a punto stiamo collaborando con i pediatri eccetera e sono molto interessato al fatto che io credo che nelle scuole si sia fatto molto di formativo quello che vorrei io credo che i nostri ragazzi alle medie siano bene consapevoli di come si mangia e come si muove bene ma non riesco a capire perché non lo facciano allora quindi il discorso dell'It Coach piuttosto ma di uno stile di come fare effettivamente passare dalla teoria alla pratica passare io adesso vado no no un momento lei ha avuto il suo momento di gloria l'ha già avuto con i ragazzi che sono splendidi dottoressa Giunchi voglio aggiungere qualcosa sto recuperando proprio sul finale no niente perfetto Ichcoach io credo che stiamo dimenticando per certi versi che siamo in Italia l'Italia è solo popolo al mondo che ha ritrovato una vacanza chiede cosa hai mangiato non chiede cosa hai visto siamo legatissimi al cibo abbiamo dimenticato bene 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 non voglio fare un contratto anch'io con lei perché adesso è il momento dei contratti quindi dopo li dovremo applicare quindi aggiungere qualcos'altro anche lei veloce mi è capitato di avere un'esperienza nelle scuole soprattutto anche nelle scuole elementari i bambini sono molto interessati a conoscere il potere degli alimenti soprattutto sulle bevande zuccherate è bastato mostrare loro quanti cucchiaini di zucchero erano contenuti in ogni bottiglietta che di lì a poco gli si è aperto un mondo e quindi penso che abbiano cambiato le loro quindi lei ritiene voi ritenete che basta che sappiano si correggono nel loro stile? no non basta sapere però è un primo passo è un primo passo sapete se non so che vi faccio violenza però adesso siccome il giorno 19 quindi per chi lo vedrà questa sera fra un paio di giorni chi lo vedrà dopo forse è già passata la giornata è la giornata nazionale del mal di testa e siccome io alla fine di ogni ping pong presentiamo degli eventi rispetto ai 70 anni dalla nascita dello Stato di Israele perché ricorre anche questo che è un fatto geopolitico molto importante con quello che sta succedendo in questi termini ho scelto il mal di testa perché il 46% del mondo ha il mal di testa e quindi vi ringrazio in quel caso il nemico è preciso identificabile non come Israele in cui ogni tanto si spina di qua ogni tanto perfetto quindi andremo a parlare e vi presenteremo alcuni slide che dimostrano con un personaggio molto importante e interessante almeno dal suo punto di vista come combattere il mal di testa vi ringrazio per adesso e adesso affrontiamo la sigla non per finire ma per fare l'ultimo passo Dottor Asif Khan che è specialista di upper cervical e la dottoressa Camilla Chigi che è assistente traduttrice prima di dare a voi questo spazio molto breve ma interessante perché il 19 come ho detto poco fa la giornata nazionale vorrei che mandassero per i nostri telespettatori ciò che a voi voi avete dato a me la 5 e la 6 perché nella 5 la giornata che è la decima giornata nazionale è stata dichiarata dalla società italiana studio della cefalea eccolo qui la vedete in quadrate l'emicrania uno dei tanti tipi di mal di testa colpisce 6 milioni di italiani il 12% della popolazione il 46% della popolazione mondiale soffre stabilmente di una forma di cefalea meno di 15 giorni al mese di cefalea è episodica più di 15 giorni al mese è invece di cefalea è cronica non cronaca è anche cronaca ma è cronica oggi è cronaca e il 6 la 6 che dice che l'approccio classico di cura questo è importante nel numero 6 il classico metodo di cura è in larga parte farmacologico e l'abuso dei farmaci sintomatici è causa accertata di mal di testa se è prolungato upper cervical quindi qui presento uno degli aspetti importanti di cura che dice agisce sui meccanismi di alterazione della fisiologia del mal di testa e non a livello farmacologico cioè dopo e quindi mi prendo delle pastiglie ne prendo mi imbottisco non ho più il mal di testa dottoressa e il dottor Kahn prego cominciamo lei è un po' in italiano un po' in inglese ma come vorrà faccio metà a metà metà a metà non c'è problema visto che l'argomento principale di questa serata è l'alimentazione e la dieta ci sono tanti approcci al mal di testa uno è farmacologico quello che hai accennato tu esiste anche l'approccio metabolico quindi alimentare noi lavoriamo cercando di ottenere di lavorare sul livello che ci consente di ottenere il maggior la più alta riuscita la più alta percentuale di riuscita e per farlo cerchiamo di lavorare sul meccanismo del mal di testa il mal di testa si possono provocare attraverso cinque meccanismi diversi ci dovrebbe essere una slide sulle cinque basi di produzione del mal di testa prego prego preghi intanto eccolo qua ecco la qua fantastic vediamola cinque basi di produzione provi a leggere provi a leggere in italiano in italiano questo è un po' difficile va bene allora cinque basi di produzione primo arterie del cervello secondo radice dei nervi C1 C2 C3 terzo sono muscoli del collo della testa quarto è articolazione del collo e poi cinque ultimo sono le meningi allora questi sono cinque principi causa di carri sono cinque percorsi in cui si scatena il mal di testa e quello che ci interessa è cercare di capire come questi cinque percorsi in realtà si intrecciano perché se ci concentriamo su uno solo dei percorsi si corre il rischio che il metodo per cercare di far passare il mal di testa vada bene solo per certi pazienti e non per altri cioè solo quelli dove si attiva quel tipo di percorso e i pazienti vengono categorizzati in base alla tipologia del mal di testa che hanno quindi quello su cui lavoriamo noi è cercare di scavalcare questa protezione però faccio una domanda prima che Asif Khan proceda ma il primo passo quando uno ha queste emicranie profonde diffuse qual è il metodo che segue il dottor Khan quindi una diagnosi dovrà pur farla è chiaro che bisogna fare un'analisi della situazione per poter fare una qualche forma di diagnosi chiaramente anche appoggiandosi a una serie di altre competenze ma c'è una cosa che il dottore preme sottolineare che è la base del nostro lavoro che è la cosa che è da fare prima di tutto se possiamo tornare alla ecco questa qua come noi diciamo che tutte le strade portano a Roma questi sono tutti i percorsi che arrivano in un crocevia comune che è il nucleo trigemino ed è lì che noi andiamo a guardare quello è il nostro punto di attenzione perché nel cercare di definire la situazione bisogna cercare di capire in quel crocevia cosa sta succedendo andiamo alla prossima successiva che era passata prima qui ci vede bene quindi quello che andiamo ad osservare noi è questo questo è il nostro amico Giacomino si chiama Giacomino si Giacomino alla base del cranio c'è questo crocevia che dicevamo prima quelle cinque strade vanno a raggrupparsi lì stiamo parlando dell'articolazione cranio-cervicale e qui che confluiscono quelle cinque strade nello specifico la prima la prima vertebra cervicale che è questo ossicino piccolo qua la testa è appoggiata lì sopra pensate a una palla da bowling la testa pesa mediamente 4-5 kg e quello è un ossicino che pesa siano 50 grammi quando c'è un disallineamento di quell'appoggio della testa che può avvenire per i motivi più vari anche solo le abitudini quotidiane ripetute si può creare si può creare un allineamento errato a questo livello che può indurre il meccanismo della maditessa quindi l'esame da fare per cominciare per valutare la situazione è fare una immagine diagnostica tridimensionale dell'articolazione cranioscervicale per vedere effettivamente la struttura se è nell'allineamento corretto oppure se è in allineamento anomalo se c'è un'anomalia nell'allineamento ecco noi andiamo a lavorare proprio su quello cercare di ridurlo quindi il motivo per cui abbiamo soddisfazione nell'affrontare i pazienti cefalgici è proprio perché andiamo a lavorare su questo meccanismo che è in comune ai vari tipi di mal di testa è già sufficiente così è semplicemente questo è molto molto semplice se lo sai il motivo per il problema dopo è più facile controllare e mettere posto se non lo sai dopo facciamo più se si conosce la causa del problema si va proprio sicuro diversamente si rischia di sparare nel buio meglio avere le luci accese in modo da sapere esattamente cosa sta succedendo io stiamo concludendo avremo modo di approfondire ulteriormente era perché l'occasione c'è data dalla giornata decima giornata della società celebrata la società italiana dei mal di testa e quindi l'abbiamo colto l'occasione faccio una piccola prova con un caro amico che ci ha accompagnato poco fa dottor Kahn nel discorso dell'obesità chirurgo bariatrico il tema è quello sempre di fondarsi sulle certezze cioè qui non stiamo parlando di cose strane secondo lei perché siamo di fronte i due aspetti farmacologico cioè cura in quel modo oppure tentiamo mi porta sempre in terreni lontani ma so che lei ama il pensiero filosofico io lo chiedo anche a livello filosofico il mio microfono non ce l'ha? no posso usare questo? mi porta sempre in terreni distanti ma io accetto la sfida allora no il discorso farmacologico adesso io ho molti cari amici neurologi quello che mi dicono è che spesso è proprio l'autotrattamento e quindi l'errore nella terapia è data dal fatto che uno invece di rivolgersi a un centro cefalea comincia a prendersi un po' a casaccio e si imbottisce di farmaci il problema è che molte volte il paziente chiede le droghe e senza specializzare il consiglio ok io è questo è il problema si sta parlando di quello che si chiama il mal di testa da abuso di farmaci spesso autogestiti malamente farmaci sintomatici da parte dei pazienti su questo siamo assolutamente d'accordo non è che il paziente che soffre di mal di testa semplicemente prende e assume i farmaci a proprio piacimento senza guida giusto per chiudere il corpo è un meccanismo molto complesso e ci vuole uno specialista che sappia come funziona l'autotrattamento può essere rischioso e quindi appoggiarsi ad un specialista che sappia cosa sta succedendo è sicuramente la scelta migliore e quindi detto anche al chirurgo bariatrico che ha e si è interconnesso con lei la conferma è qui affidarsi e rimani sicure assolutamente questa è la conclusione io purtroppo torneremo su questo argomento perché è molto importante e interessante vi ringrazio adesso sapete qual è ma voi rimanete qui perché il chirurgo bariatrico è qualcos'altro ma non per mestiere o per professione per diletto e possiamo farla sentire vedere ciò che ha realizzato lei con questa cosa? sì posso dire una cosa allora adesso scendo faccio questa cosa che mi è stata chiesta allora diciamo che è un momento di questo spettacolo teatrale che faccio assieme ai miei pazienti e in qualche modo volevamo simbolicamente rappresentare quello che era il distacco il cambiamento della malattia e sicuramente la chirurgia in questo è un momento cardine non l'ultimo perché è un percorso molto più lungo e molto più complesso non è solo chirurgia la guarigione dell'obesità e l'abbiamo simbolicamente rappresentato con una bellissima a mio parere performance di Valentina che è una nostra attrice che si libera da una specie di cordone ombelicale a cui è collegata con un frigorifero e per significare l'atto chirurgico lo facciamo musicalmente perché mi diletto un po' di musica e mi sono lanciato in questa cosa non è poi vero che si diletta un po' non è vero che si diletti un po' si diletta e ci diletterà prego prego dopo alla conclusione noi andremo a vedere cosa hanno combinato i ragazzi dell'Artusi prego grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.